Sono Nicolò Maffoni, ho 19 anni e ho una grande passione per lo studio della natura, dalla biologia alla zoologia. Dopo essermi diplomato al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano, ho deciso di iscrivermi alla Medical School, un corso di sei anni presso Humanitas University in partnership con il Politecchio di Milano. Innanzitutto perché è decisamente innovativo e a me piace sperimentare cose nuove. Unisce l'insegnamento della medicina classica a quello dell'ingegneria biomedica. Ma non ci ha la sensazione di studiare due cose completamente separate. Si esplora l'applicazione della medicina nell'ambito dell'ingegneria biomedica e viceversa. Ad esempio, la Fisica viene insegnata in relazione al corpo umano. O perché ha un respiro internazionale. Il corso è in lingua inglese, vi partecipano studenti provenienti da tutto il mondo e i docenti hanno avuto esperienze di studio e di lavoro all'estero. L'ambiente è stimolante e coinvolgente. C'è una grandissima interazione tra studenti e tra studenti professori. I docenti infatti sono disponibilissimi a confronti anche one-to-one. Mi piacerebbe fare ricerca. Anche se non so precisamente a quale campo dedicarmi, sono sicuro di voler dare mio contributo allo sviluppo e al progresso scientifico. E mi piacerebbe farlo in Sudafrica, paese di cui sono profondamente innamorato. Nell'estate del 2019 ho avuto la opportuna di andare lì per volontariato. Per due mesi ho lavorato in diverse riserve naturali, ed è lì che ho imparato l'importanza della ricerca. Sir David Attenberg, divulgatore scientifico naturalista. Ho seguito tantissimo i suoi documentari e ogni volta che racconta qualcosa i suoi occhi vi danno di una luce unica. Vorrei trasmettere la stessa passione un domani. Grazie per la visione! Grazie per la visione!